La prima edizione del premio Flight Photo Awards è stata assegnata alla fotografa e giornalista del National Geographic, la statunitense Lynn Johnson, per il suo reportage Water Warriors. Il premio, pensato dall'associazione Tutt'altro, ha un risvolto di solidarietà sociale. Abbiamo seguito la cerimonia a Castel del Monte ad Andrea. Il premio Flight Photo Awards, prima edizione, è stato assegnato a Lynn Johnson, la nota fotografa americana di National Geographic, autrice del progetto Water Warriors. Un focus sulle criticità idriche in Kenya, Etiopia e Tanzania. Lynn Johnson non solo è una delle più importanti fotografie degli Stati Uniti, ma è una delle più grandi istituzioni scientifiche ed educative no profit al mondo. Attiva soprattutto nella conservazione dell'ambiente naturale e dei patrimoni storici, nella geografia, nell'archeologia e nello studio delle civiltà e della loro storia. Flight nasce dall'iniziativa di Francesco Merra, presidente della storica associazione andriese Tutt'altro. Flight Photo Awards è un progetto fotografico nato nel 2017 che ha, nel senso d'appartenenza, la sua mission più profonda. Innanzitutto è un luogo magico, mistico e in qualche modo si sente, cioè prova le stesse emozioni anche verso appunto questo premio. Prova queste emozioni anche verso il maestro Francesco Merra, verso un po' tutti noi, visto che abbiamo passato due giorni intensi insieme. Le ha anche visitato la nostra scuola, quindi è molto contenta del lavoro che facciamo con i bambini, li rendiamo appunto dei degni cittadini del mondo e spera di fare un po' anche lei questo. È stata sia in Kenya che in Etiopia che in Tanzania e lì ha visto soprattutto le bambine, mentre i bambini avevano la possibilità di andare a scuola, le bambine non avevano assolutamente questa possibilità ed era il loro ruolo quello di portare l'acqua nei loro villaggi, quindi un ruolo particolarmente difficile e in un certo senso vivendo poi la scuola di creatività tutt'altro ha visto una situazione completamente diversa ma in qualche modo collegata e ha pensato quanto sarebbe bello portare qualcosa del genere anche lì. Flight, il contest che è un po' il simbolo di tutto ciò, è il simbolo appunto del voler creare un pozzo in Africa proprio per poter portare l'acqua senza tutta questa fatica. Questo progetto è nato una decina di anni fa e quindi piano piano siamo riusciti a ottenere questo risultato. È un progetto sul senso di appartenenza e il concept è io appartengo al mondo e il mondo appartiene anche a me. Quindi stiamo collaborando con alcuni fotografi di National Geographic e questo è il primo concorso che facciamo. Il ricavato va per la realizzazione di un pozzo in Etiopia e questo pozzo avrà il nome di Giorgia Lumuscio che è stata una nostra bambina. Giorgia è una totaltrina e perché a un certo punto del suo tema scrive che da grande vorrei frequentare il liceo linguistico per conoscere le lingue, per viaggiare, conoscere le tradizioni dei popoli e poterli aiutare perché è questo a renderci unici. Quindi con Francesco abbiamo pensato di fare questo progetto e di intitolare, di dare questo nome ad un pozzo in Etiopia che porta proprio il nome di Giorgia. Io credo che sia per Andrea innanzitutto una cosa molto importante e siamo grati, siamo lusingati, soprattutto il riconoscimento a questa gente che ha questa sensibilità e si protiga per il bene comune.